mamma 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 oddio Zed I am crazy 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 parto però ma indietro parto all'indietro si sto venendo tornando indietro l'etromarcia ah la capital tool sta dall'alto quella capital tool sta dall'alto stanno poi il segnale col cellulare il classo del treno a sentire anche che arrivo ok sono a 80 km tra poco ma spero sbagliato hai preso il treno sbagliato no no ma spero giusto allora vedi che va di là cambio di titolo clickbait si scambiano i binari e danny perde il treno si sta vecchio ok ragazzi pronti stanno arrivando vai 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 mamma vecchia attenzione ragazzi qui vedete danny sulla ferrovia pronti e pronto a distruggere già un po' lo vedo lo vedo mamma vecchia qua succede le peggio ok sta passando il primo passo attenzione la curva la curva la salita vedo il ponte vedo il ponte vedo il ponte vedo il ponte vedo il valtra oh attenzione 3 2 1 mamma mamma oddio 0 no aspetta 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 attenzione all'arrivo allora questo è il ball guardate la all'arrivo guardate la all'arrivo dove andrà andata sul tredici andata ci sono rimarchi tutto ho finito andati in pace am oh adesso no vecchio perchè ci sei sganciato dovevi scaricare tutti i rimarchi no vabbè raga tanto si è fatto il suo vattaggio part adesso danny io direi che potresti anche lì passare bravo aspetta aspetta Discard Germanic la facciamo stare raga mi si è buggato il tato addio porco casualmente c'è questo treno ma no ma hai visto il treno e io che tuono come si ferma il treno eh è stato frenato oppure spegne il motore farmi tutti questa è una rapina parco dio senti vero vale madonna si è sentito fino a qua tutto ciò è realizzato dai apriamo un server e facciamo un garello con le macchine si dicevano ragazzi sono veramente forti va bene bello il video finisce qua se chiedi per il cazzo ciao ma non so una parte che una parte no no vecchio ho registrato dopo il carico su youtube carichardo su youtube il titolo ecco da ogni serio aspetta forse avanti ovio brandon il miorès guardare guarda play guarder il val attent per il momento un'incomo ma se gli dati o cammini perché con lui non è mai parlare so che registra bambini scopo non è anita e per il caso di venire la via registrazione troppo vicino michael che la faccio no vai più indietro è troppo vicino sei lentissimo no va bene 70 83 ecco prima assaggio prima assaggio è bene ragazzi pronti vai io provavo no ragazzi no ragazzi ma ma guarda il tatra il tatra è volato guarda me guarda il 29 aspetta ora un attimo no aspetta ora vi faccio il giro raga vi metto i metri raga vi faccio l'incroppamento giusto vai diciamo così vedete mentre io continuo a girare voi continuate a mettere i mezzi vedete quanto è riuscito a fare il tatra è volato praticamente fino al 19 ok sappiamo che questo si schioda da qua no il treno non lo puoi schiodare e verano andiamo la sistema da qua non mi la portava eh no comunque mi bisogna mettere dritto ma ecco mi stai buttando sopra te fai a mettere dritto addio che te faccio io ciao ciao ditemi quando posso partire aspetta si infatti ha detto ditemi quando posso partire raga ma che senso ha che se io spengo il treno non frena infatti non ha senso però però boh però ho 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 lo il è l'acqua come sta Guardate me la finita redda Guarda Dani sali sopra Master La pianto io, se no questo è valvo Sto fermando il treno Adesso Master no La voglia Posso partire? No No Eh si devo andare Guarda qua Ok Dai allora facciamo l'ultimo volo No aspetta Maichael parti tra No guarda che è 40 Guarda che è 40 Fa partire tipo tra 20-30 secondi Perché tra altre cose non riusciamo a mettere perché sono tipo bugate Ma quindi Spingi in padani Eh spingi in padani Vabbè Michael parti adesso perché non si può fare nulla E io parto? Si si parti pure Ci sono buggati alcuni mezzi quindi non riusciamo più a... Si 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 l'uomo quando manca qualità con ragazzi 10 9 8 7 4 6 5 dan 4 3 2 non c'è uno impatto tra 1 2 sparta guarda dove è guarda 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 una vasta arriva un po' l'altro giro se hai sbagliato il nome guarda guarda come è rimasto il tata guarda guarda come è saltata guarda guarda come è saltata il valtra sempre dentro rimane il valtra chi Queens guarda 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 uguale attraverso saranno tra giro no ho fatto il giro l'attività di su buonan questa regola un regale passatrice di aula il diavolo mi sta sentendo a me il diavolo tra poco un diavolo grande che grande come una casa un'intera aspetta, non arriva, frena, frena cazzo, vi siete accorti che stavo arrivando qua? no, 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 vai qua lo stesso vai, vai, vai no, sto a mettere la massima e se lo vuoi è supposta vabbè, fondare, fondare vai, 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 vai vai, 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 vai questo qua a l'una e mezza mi manda i messaggi madonna, scuspiata sono solo l'una la prossima che ti ho mandato l'una e mezza è bella che scorniato l'orologio lo avrebbe compito e non dicevo che ho messo lì indietro l'orologio no, madonna da ruotare è sempre lui ma anche lì senti, parliamo di domani che adesso non mi gira proprio pronti, tre, due, uno vai, vai vai, vai vai, vai vai, vai guarda la guardate la terra dos qua vai, vai vai, vai 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 Michael senza fermarti adesso diretto senza fermarti guardate 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 dista oltre a questo l'inzito sarà per me almeno il fatto per parte e ciò che vende c'è un trattore e noi c'è un minamiti terribile per finire il t8 grazie amostra non lo metti non sta ai suoi filo il t9 ragazzi dall'impatto qua giù qua giù dove sono io Ale dall'impatto era dentro il fume era dentro il ponte era questo pulisce tutto oh muovetevi con la con la con l'esponare non lo metti basta è arrivato quando manca cioè ma è ancora una tua idea dove è finito l'urliman Cioè ragazzi, lui rimane da passaggio a livello ed è finito qui dopo il ponte. Dopo il ponte, finito. Ecco, ecco lo... 5... Anche, eccolo. Capiamo comunque che vedrai. Fa sta cosa. Stiamo meno o meno. Questo è Sparta! C'è un po' di...